Ciao ragazzi avete mai mangiato l'hot pot? Sono da Little Lamb a Milano Ho scelto il brodo piccante, uno normale, poi qua puoi scegliere tutte le salse che vuoi Praticamente metti le cose che ordini nel brodo, avevo ordinato tanta carne di manzo, la coppa, la pancetta Le polpette, poi i spaghetti cinesi e molta altra carne Poi gli spiedini, quello al pane piccante lo adoro, poi anche quello di manzo Poi avevo preso anche il tofu fritto che non aveva tanto sapore, poi i spiedini di carne mongola